La luce di una grazia speciale, di una benedizione, tornarlo gridando la gloria di Dio, inneggiando al Signore insieme agli angeli. Ecco, nella giornata di oggi, come piccoli diamanti dispersi nel mondo, portiamo agli altri la benedizione, la grazia di Dio, portiamo agli altri Gesù. E se vi resta facile, possibile, ripetete queste stesse parole oggi. Il Signore ti benedica, il Signore ti benedica e sentirete che nell'altro c'è una grazia, una luce particolare, vi ringrazierà perché avete distribuito la benedizione di Dio. Così sono i cristiani. Gesù, la luce del mondo, dice Gesù, voi siete la luce del mondo. Ecco, quando noi vogliamo la pace, in questo tempo, tante volte si parla di pace, oggi è anche la giornata della pace, voluta da un grande Papa Santo, San Paolo VI, chiediamo chissà quale è il programma. Il programma è semplice. Vuoi la pace? Ama, benedici, vedrai che l'altro non sarà capace di fare la guerra. Vuoi la pace? Ama con il cuore di Gesù, con il cuore di Maria.